Lo sportello sociale dovrebbe essere un luogo fisico, una persona fisica, quindi non un telefono, non un numero verde, al quale la persona, il pensionato, il cittadino si rivolge per avere notizie di quali sono i suoi diritti inespressi, ossia se nel suo comune ci sono delle agevolazioni sull'affitto, sulla luce, sull'acqua, oppure che tipo di RSA ha diritto, come ci deve andare per farsi controllare la sua busta paga, che sarebbe lo scontrino della pensione, ossia tutta una serie di diritti e spesso e volentieri non vengono chiesti perché non si conoscano. Questo sportello dovrebbe aiutare a conoscerli. Tutto ciò insomma che riguarda la tutela del reddito, da un lato con le somme non richieste, come integrazioni al minimo, prestazioni assistenziali, maggiorazioni, somme dovute ma non versate dall'Inps a causa di errori, calcoli sbagliati o domande mai fatte, dall'altro tutta una serie di agevolazioni delle quali è possibile usufruire, ma che molto spesso sono sconosciute agli stessi destinatari. Per lo SPI, CGL e Toscana l'apertura degli sportelli sociali è un impegno importante, una vera e propria scommessa, che passa anche attraverso un investimento in termini economici e di qualificazione degli addetti agli sportelli, che dovranno essere adeguatamente formati. Noi abbiamo nel nostro bilancio previsto una cifra di circa 45 mila euro per aprire 5 sportelli sociali in Toscana come un punto sperimentale, poi speriamo di andare oltre e soprattutto anche attraverso un percorso formativo perché la persona che dovrà essere a quello sportello dovrà conoscere quelle che sono le cose, quindi la contrattazione sociale fatta, quindi quali sono le cose in cui la persona ha diritto, quindi un percorso abbastanza complicato anche da un punto di vista tecnico per conoscere come si controlla una busta paga, come si legge uno scontrino di pensione, eccetera. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione il servizio già a partire dal prossimo giugno. Sì, noi pensiamo di essere in grado di partire da giugno, anche perché diventa un periodo abbastanza importante, abbiamo finito la campagna sul 7,40, quindi sul fisco e quindi la gente comincia a venire a chiedere anche cose, e quindi dobbiamo essere in grado di rispondergli. Un servizio aperto a tutti con un importante potenziale bacino di utenza. Se facciamo un po' un paragone su cosa succede al sportello del patronato, che circa un cittadino su tre si rivolge e quindi si parla di qualche centinaia di migliaia di persone, pensiamo anche noi di poter parlare con un numero interessante di persone, anche per, come si dice, per far crescere anche i nostri iscritti. E con l'obiettivo anche di far conoscere meglio il sindacato e il suo lavoro, così da incrementare le adesioni allo SPI e contare di più per ottenere di più per tutti. Senza dubbio, nel senso far conoscere i diritti, ma anche perché, come dice la nostra prossima campagna, sul tesseramento più siamo più contiamo, insomma facciamo tutti parte di un mosaico e quindi se siamo in grado di stare insieme riusciamo anche a conoscere ed avere. Le sedie degli sportelli saranno segnalate sul sito dello SPI CGL Toscana. Grazie. 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 Grazie.